Tante noi si sia già commentato insomma il risultato delle elezioni Umbria però fare un punto della situazione a mente più fresca con i risultati definitivi che chiaramente confermano il trend che abbiamo visto ieri notte e se vogliamo anche in positivo. Quella che noi abbiamo visto ieri in Umbria è senza timore di smentita una vittoria storica, una vittoria storica per il centrodestra in una regione si sa storicamente di sinistra che a sinistra ha votato sempre e ci consegna soprattutto una enorme responsabilità nei confronti dei cittadini Umbri che hanno riposto in noi le loro speranze. Credo che ieri sia stata una giornata storica, felice anche e soprattutto per un Umbria che riesce a liberarsi da un sistema di potere, ti ringrazio, che riesce a liberarsi finalmente dopo decenni da un sistema di potere ormai totalmente affaristico e clientelare e che si inizia da ieri. Per questa regione un futuro di speranza. Chiaramente noi in questa campagna elettorale in Umbria abbiamo parlato di infrastrutture, di famiglia, di sostegno alla piccola e media impresa, di come valorizzare il marchio, di come aiutare il turismo, di come impedire che troppi giovani scappino da una terra che pure avrebbe tantissimo sulla carta da offrire loro e da oggi comincia il nostro lavoro per chiaramente insomma dare continuità e coerenza a quello che abbiamo promesso avremmo fatto. Quindi siamo ovviamente a disposizione della Presidente Tesei con una bella classe dirigente e con consiglieri regionali eletti di assoluta esperienza e capacità e quindi Fratelli Italia pronta a fare il suo lavoro per quello che riguarda gli Umbri. Credo che non si possa non parlare dello straordinario risultato di Fratelli d'Italia in queste elezioni regionali. Credo che, e sapete che non sono una persona abituata diciamo al trionfalismo, però credo che il risultato di Fratelli d'Italia sia senza timore di smentita il vero esploat di queste elezioni regionali perché Fratelli d'Italia è l'unico movimento che in Umbria cresce rispetto alle elezioni europee, che cresce sia in percentuale sia in voti assoluti. Siamo il terzo partito in Umbria, quindi abbiamo superato il Movimento 5 Stelle e questo credo sia qualcosa che merita una menzione perché vedete nelle elezioni politiche del 2018 il Movimento 5 Stelle aveva il 27,5% dei consensi, noi il 5%. Dopo insomma un anno e mezzo Fratelli d'Italia vola al 10,5% e il Movimento 5 Stelle si pianta al 7,4% perdendo i tre quarti dei consensi che aveva in Umbria. È credo il segno che l'era del consenso basato sulle menzogne, sulle false promesse è finito. La gente vuole coerenza, vuole serietà, vuole concretezza, non ama essere presa in giro e se qualcuno pensava che gli italiani si potessero prendere in giro mi pare che gli Umbria abbiano dato una risposta abbastanza chiara da questo punto di vista. Chiaramente il ruolo di Fratelli d'Italia cresce anche all'interno della coalizione di centrodestra. La coalizione di centrodestra incrementa il suo dato complessivo rispetto alle elezioni europee sostanzialmente grazie a Fratelli d'Italia che è il movimento che, come dicevamo, cresce di più. Si deve quindi soprattutto a noi la crescita del centrodestra in questa regione. Tra l'altro, come ho detto e ribadisco, l'Umbria fin qui è sempre stata una regione i cui dati erano assolutamente in linea con il dato nazionale di Fratelli d'Italia. Quindi questo risultato in Umbria ci lascia ben sperare anche per la nostra crescita non solamente a livello regionale in Umbria ma su tutto il territorio nazionale. Sono molto contenta del ruolo sempre più centrale che Fratelli d'Italia all'interno della coalizione. Oggi secondo partito della coalizione. Anche qui si dimostra che, diciamo, l'aver scelto la strada di rimanere sempre saldamente nel centrodestra, di non fare patti né col PD né col Movimento 5 Stelle e poter essere oggi gli unici in grado di rivendicare la loro, tra virgolette, monogamia. Lo dico sempre con un pizzico di ironia. Anche questo, insomma, mi pare un elemento del quale sia giusto tenere conto e sono molto fiera del fatto che si è stato premiato e che gli Umbria abbiano voluto premiare questa coerenza di Fratelli d'Italia, l'aver scelto sempre la strada più difficile e mai la scorciatoia. Una cosa che in politica evidentemente paga. Chiaramente adesso ci sono altre elezioni regionali molto importanti. Noi siamo già pronti a fare il nostro lavoro con il centrodestra, anche per vincere le prossime elezioni regionali. Credo che si debba partire subito in tutte le regioni nelle quali si voti. A noi siamo, come Fratelli d'Italia, già di fatto pronti a partire nelle regioni che sono state tra virgolette affidate a noi. Parlammo con Salvini e Berlusconi, di quali dovessero essere i partiti che selezionavano i candidati alla presidenza delle prossime regioni. A Fratelli d'Italia è stato chiesto di selezionare i candidati di Puglia e Marche. Noi di fatto insomma siamo pronti quando si vuole, così come siamo pronti a iniziare la campagna elettorale. Se Salvini, che ha il compito di indicare il candidato in Emilia-Romagna, confermerà la candidatura di Lucia Borgonzoni. Credo che Fratelli d'Italia possa dire la sua a questo punto anche, per esempio, su una regione come la Toscana, nella quale noi possiamo sicuramente anche contribuire all'individuazione di un candidato che possa vincere in un'altra regione storicamente rossa. A questo punto sappiamo che non ci sono più le roccaforti e questo è molto importante. Significa che con il candidato giusto e con un progetto serio, credibile e forte si può vincere ovunque. Quindi noi siamo già mobilitati da questo punto di vista e speriamo insomma di poterci vedere, incontrare nei prossimi giorni per definire i dettagli e partire anche per le prossime elezioni. Credo che a questo punto si possa vincere ovunque, sul territorio nazionale, soprattutto se questo Governo decidesse di rimanere in sella contro ogni aspettativa e contro ogni dignità. Voglio dire che sono scandalizzata dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulle elezioni regionali in Umbria, sono scandalizzata da un Presidente del Consiglio che dice che gli Umbri non contano nulla perché sono più o meno il 2% della popolazione, sono scandalizzata, a maggior ragione sia a dirlo, sono quelli che hanno fatto un Governo facendo votare 60 mila persone presunte sulla piattaforma Rousseau. Credo che 700 mila Umbri valgano molto di più dei 60 mila presunti elettori della piattaforma Rousseau e che quindi queste dichiarazioni Conte avrebbe potuto tenerle per sé. Aggiungo che se si vuole allargare un po' lo scenario e lo spettro non c'è l'Umbria contro l'attuale Governo, ci sono attualmente 11 regioni italiane governate e quindi sulle quali i cittadini hanno scelto il centrodestra e non il PD, non il Movimento 5 Stelle. Quindi per come la vedo io, io sono stata molto chiara su questo, sono stata se vogliamo la più chiara, io penso che il Governo dovrebbe immediatamente rassegnare le dimissioni, penso che quello di ieri sia stato un segnale chiarissimo da parte dei cittadini e penso che non si possano derubricare le elezioni regionali Umbria a un test locale, non lo si può fare sicuramente dopo che nella giornata di chiusura della campagna elettorale mezzo Governo è andato a Narni con la scusa di presentare la manovra, c'era il Presidente del Consiglio, c'era Di Maio, c'era Zingaretti, c'erano i capi praticamente di tutta la maggioranza, c'era mezzo Governo e sono andati lì a mettere la faccia sul risultato Umbro. Hanno fatto una iniziativa che doveva servire in teoria a presentare la manovra, altra cosa scandalosa, che si vada a tentare di raggranellare qualche consenso spiegando come si usano i soldi degli italiani e di tutti gli italiani, ma su queste cose la sinistra ci ha abituato da qualche anno, fatto sta che se dopo che arriva mezzo Governo a chiudere la campagna elettorale si perde con il 60% in una regione storicamente rossa, il dato non potrebbe essere più chiaro, il risultato, la volontà popolare, quello che i cittadini chiedono è veramente e totalmente palese, quindi io fossi Conte, ma chiaramente non sono Conte perché altrimenti non avrei potuto fare già finora quello che ha fatto Conte, rassegnerei immediatamente le dimissioni, tra l'altro varrebbe la pena di dire che probabilmente se il Governo è andato a presentare la manovra in Umbria, insomma la gente ha votato anche contro quella che si preannuncia un'altra manovra a lacrime e sangue, perché qui stiamo parlando di una manovra che prevede 10 miliardi di Euro di nuove tasse, loro hanno il coraggio di chiamarle microtasse, ma qui parliamo di 10 miliardi di Euro di nuove tasse, di 3 miliardi, 3 di Euro di presunta lotta all'evasione fiscale che in realtà saranno vessazione verso i contribuenti, perché lo Stato italiano ad oggi la vera lotta all'evasione fiscale non l'ha fatta, ha fatto caccia al gettito che è completamente un'altra cosa, e 14 barra 16 miliardi di Euro pagati in deficit, quindi con interessi che pagheranno sempre gli italiani, una manovra scandalosa e quindi chiaramente mi pare che anche lì i cittadini dell'Umbria si siano espressi chiaramente. Noi abbiamo ascoltato, voglio dire anche questo, io temo che alla fine questo Governo non avrà la dignità probabilmente di rassegnare le dimissioni, almeno questo si capisce dalle prime ore, che è invece la richiesta chiara che fa Fratelli d'Italia, penso che anche il Presidente della Repubblica potrebbe da questo punto di vista fare una riflessione, noi abbiamo ascoltato con grande rispetto il Presidente Mattarella quando ci parlò in sede di consultazioni della necessità di avere in Italia un Governo stabile, capace di fare una buona manovra finanziaria, un Governo forte, coeso. Credo che i dati delle ultime settimane dicano tutt'altro, questo non è un Governo coeso, non è un Governo forte, non è un Governo che sta tagliando le tasse, è un Governo in viso al popolo italiano e non so quali altri segnali il popolo italiano dovrebbe mandare, probabilmente anche il Presidente della Repubblica potrebbe valutare, insomma di tenere in considerazione il nuovo scenario. Però, e concludo, e poi se volete sono a disposizione per le vostre domande, sicuramente a maggior ragione se questo Governo non dovesse decidere di rassegnare le proprie dimissioni, noi non possiamo consentire che una minoranza arrogante elegga anche un Presidente della Repubblica in viso al popolo italiano. Questa è la ragione per la quale, da oggi e ancora con maggiore forza, noi continuiamo a raccogliere le firme sulla nostra proposta di legge e di iniziativa popolare. Servono 50.000 firme per l'elezione diretta del Capo dello Stato. Puntiamo ad approvare questa proposta, insieme a quella dell'abolizione dell'Istituto dei Senatori a vita, all'introduzione di un tetto alle tasse in Costituzione e a una norma sulla premazia della Costituzione italiana in rapporto alle norme dell'Unione Europea. Sono quattro proposte sulle quali stiamo raccogliendo le firme. Puntiamo ad approvare l'elezione diretta del Capo dello Stato prima, prima che arrivi la scadenza dell'elezione, del rinnovo del Presidente della Repubblica, perché davvero sarebbe incredibile se questa maggioranza, che gli italiani davvero non vogliono al Governo, alla fine riuscisse anche a eleggere un Presidente di stante anni luce, sempre dalla volontà popolare. Noi continuiamo a credere che la sovranità appartenga al popolo e che sia giusto che il popolo possa esprimere da chi vuole farsi rappresentare, sia che si vinca, sia che si perde. E il gioco della democrazia dovrebbe funzionare così. Ieri noi abbiamo vinto, probabilmente siamo stati più credibili, faremo di tutto per meditarci questa vittoria e andremo avanti per fare in modo che gli italiani possano nel minore tempo possibile riprendersi la loro sovranità anche a livello nazionale. Questo è quello che brevemente volevo dirvi io, se voi avete domande sono qui, altrimenti questa giornata di commenti continua. Grazie e buona giornata.